Bentornati su MyFootballJersey. Oggi vediamo un'anticipazione non ancora ufficiale per la prossima stagione, quella che dovrebbe essere la prima maglia del Real Madrid per la stagione 22, scusate, 23, 24, in edizione Player. Questa maglia del Real è stata realizzata partendo da alcune anticipazioni attrapelate su internet e ancora non è ufficiale. Se queste anticipazioni saranno corrette, la maglia da calcio Adidas Real Madrid 23, 24, home, è bianca, blu navi e giallo oro. Ufficialmente i colori sono white, legend ink, preloved yellow. Preloved yellow è un colore giallo dorato, non è né giallo puro né oro metallico, ma una via di mezzo. I loghi della maglia sono blu scuro. Preloved yellow viene utilizzato anche per le tre strisce Adidas. Per il colletto Adidas confina il preloved yellow, white e legend ink in tricolore. Anche i polsini delle maniche sono dotati del tricolore. La maglia è bella? Non è detto che questa rimanga al 100%, però dovrebbero essere questi i colori della casacca blanca. Nella mia classifica prende 5 stelle. Ovviamente ricca di tradizione la casacca del Real Madrid, qualcosa che dovete avere nel vostro armadio. Il costo lo vedete qui sopra, non aggiungo altro se non dirvi, farvi notare quanto è basso per una maglia fatta così bene con dei buonissimi tempi di spedizione. In descrizione qua sotto trovate tutti i riferimenti per ordinare la maglia. Andate a vedere sul sito questa e altre bellissime maglie che vi attendono. Ora, prima di lasciarvi alla parte finale, io spero che possiate regalarci un grosso like e iscrivervi al canale. Per oggi è tutto, ci rivediamo alla prossima. Io sono alto 1,75 m e peso 70 kg circa. Quella che vedete è una taglia large della versione player.